I finanzieri del gruppo di La Mezzia Terme hanno eseguito un controllo economico del territorio nelle zone di maggiore attrazione turistica e sulle principali vie di comunicazione. Tra gli autoveicoli in transito sulle arterie stradali della zona, i militari hanno individuato e fermato un'autovettura che procedeva con un'andatura anomala sull'autostrada 2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di La Mezzia Terme. Nel corso del controllo il nervosismo della persona fermata non è sfuggito alle fiamme gialle che hanno approfondito il controllo mediante una perquisizione accurata del mezzo eseguita con l'ausilio del cane antidroga Indic, il quale dopo una minuciosa ispezione del mezzo ha segnalato al proprio conduttore la plausibile presenza di sostanze stupefacenti. L'accurata ricerca è effettuata successivamente dai finanzieri in corrispondenza dei punti in cui il cane antidroga si era soffermato ha consentito di rinvenire stipati ed abilmente occultati in un apposito intercapedine 50 panetti di cocaina per un peso complessivo di 60 kg. Tale intercapedine è risultata essere stata artatamente realizzata sotto il pianale del veicolo che si apriva con un congegno meccanico, anche questo abilmente occultato, sotto la mochetta all'altezza dei sedili anteriori, non individuabile nel corso di un'armale ispezione. All'esito delle operazioni, i finanzieri lamettini hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta che dall'analisi è risultata di elevato grado di purezza ed il veicolo con il quale veniva trasportata. Il conducente, sorpreso nella fragrante e illecita condotta di detenzione ai fini di spaccio del narcotico sequestrato è stato quindi tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Catanzaro. Il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari.